più importanti, in particolare la partita sugli assi russi, poi ci tornerà credo anche il governatore, non è chiaramente ancora finalizzata perché presenta delle problematiche di tipo tecnico e legale significative. Quello che è, ed è confermato nel comunicato e sarà confermato nel comunicato, è il forte posizionamento politico in questo senso da parte di tutti i paesi del G7. Mi fermo qui e lascio la parola al governatore Panetta.